Paola, Paola e basta, a te invece, un'altra Paola, Paola a te invece è mai capitato di vedere le tue parole prese in prestito, rapite o maltrattate? No, io le ho viste tatuate, sì Quale verso in modo specifico? Ma ti amerò lo stesso, o mi amerò lo stesso, perché io ho cambiato il pronome alla canzone rendendola poi un libro e un monologo, oppure attraversami il cuore, ecco Queste sono le parole, dove, uomini o donne? Poi ci sono le immagini, cioè ho visto la mia faccia su un polpaccio Ma tipo Maradona, ma chi? Eh, davvero, ma era un polpaccio guizzante, quindi aveva anche delle espressioni, oppure era in mota? No, io ero come lì, con trita, sembrava che stessi, non so, salendo sopra la gamba, la coscia Ma era solo il volto o anche il colpicino? Era solo il volto, era solo il volto per fortuna Era un fan squilibrato? No, era una fan molto carina, peraltro che però inizialmente mi ha fregato perché si stava togliendo i pantaloni e io pensavo adesso ce l'ho sulla chiappa cioè mi aveva detto, ho tatuato il tuo volto E si è abbassato i pantaloni? E si è abbassato i pantaloni Cioè ti esponi, condividi senza esagerare, ma condividi anche il tuo pensiero Sono scappate anche a te delle frasi motivazionali un po' senza senso C'è qualcuno che ti è piaciuto citare? C'è qualche cosa scritta da altri che hai condiviso di recente? No, però lo vorrei scrivere una volta, ma non verrei fraintesa Ma non so se si può dire, bippatemi se volete Andate a fanculo, ecco Mi piacerebbe scrivere una cosa così Tranchant, semplice, diretta Ma a chi? Esattamente a chi? Ma a tutti quelli che vedono in ogni frase Poi io adesso faccio, come dire, riporto storie di cronaca perché sono quelle a cui presto maggior attenzione La cronaca delle donne ammazzate, faccio la conta oppure delle ragazze violentate C'è sempre qualcuno che dice qualcosa Ogni volta che tu ti esponi su questo tema immagino con un senso di vicinanza, di partecipazione qualcuno sotto scrive cose violente contro di te o contro l'oggetto? Contro di me, no 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 contro l'oggetto Contro di me Se io dico, hanno sparato a questo ragazzo stronza A me A te? A me Allora guarda, non soltanto io non ti bippo ma mi unisco a te e chiedo di farlo al mio pubblico A chi scrive queste cose sotto le pagine di Paola Turci Uno, due, tre Pensa domani cosa accadrà Tu invece sei contenta quando gli altri scelgono una tua canzone come sottofondo dei fatti loro? Ti è capitato? Beh, dipende Sì, ne ho viste alcune Sono carine Su alcune canzoni Alcune sono spesso citate Tipo questione di sguardi Volo così Ecco, le vedo Sono abbastanza Contenta Sì Lo mascheri con Sì 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 Comunque, secondo me abbiamo frugato nella tua vita Abbiamo scoperto che il 12 settembre del 2023 hai pubblicato questo post Eccolo lì, quello? Eccolo, l'hai pubblicato tu Sai che quando poi lo vedi in televisione dici Ma io ho fatto una cosa del genere? Ho pubblicato una foto così? Vabbè, ma cosa vuol dire una foto elegante? Non dico se sei... No, perché tu pensi che sul... Innanzitutto hai un bagno fighissimo È un bagno? Ma non me lo... No, sarà stato un bagno di un ristorante Ma tu nel bagno del ristorante scusate Ti comporti così Ma che ristorante è un bagno? Ho capito, a quanti gintoni ti eri in faccia, scusami Ma non è un bagno di casa tua? No Lo ricorderesti, voglio dire Sembra la casa bianca quasi Ma infatti sei tu che frequenti i luoghi evidentemente Sono facenti No, ma io l'ho fatto proprio la foto perché appunto questo luogo mi sembrava abbastanza anomalo, diciamo Stavi facendo vedere il tatuaggio a qualcuno evidentemente No, figurati No, non ci penso ai tatuaggi Però ecco, sì, in effetti ero con le mutandine Però è una foto che ho messo nel giorno del mio compleanno Esatto, infatti quest'anno, lo stesso giorno di quest'anno sarà una data piuttosto importante Anche se mai si direbbe a occhio nudo Sì, faccio 60 anni quest'anno Ma non hai sentito il rumore dell'ammirazione misto a invidia? Perché poi a volte combaciano nella vita No, no, è che proprio a me non fa differenza Cioè per me, io mi vedo, in questi giorni mi vedo proprio diciottenne Ma anche la mattina? Sì, di più Di più, di più Ma tu entri in bagno e ti guardi Ma sto cieca, ma sai che a 60 anni non ci vedi più No, guarda, ci vedi da vicino, mica da lontano Non ci vedo proprio, né da vicino né da lontano Quindi la vita è quella che immagini Sospensi, era brava Brava, purtroppo io ci vedo Ma guarda, io l'ho imparato, l'ho imparato adesso, è una cosa abbastanza drammatica Però l'ho imparato dall'esperienza che ho avuto tanti anni fa con questa roba qui sulla faccia E quindi ho detto, ma perché mi devo guardare? Cos'hai imparato? Ho imparato a immaginarmi Mi immagino, stupenda, meravigliosa, trentenne, a volte diciottenne Guarda, sono... Ma funziona, guarda, ti immagini benissimo Ma che c'è che funziona? Oggi so che stamattina sono caduta Dove? Per terra Ma in bagno? No, ero a fare una radio, non ho visto il gradino e sono caduta con queste scarpe Vabbè, perché non ci vedi e questo l'abbiamo... Non ci vedo Quindi vabbè, ma vede bene tende a cadere Ieri cosa è successo? Per strada Sei caduta per strada? Sì, sono caduta Che bella immagine che stiamo là Sono caduta Una donna dall'equilibrio precario Sì, esatto Ma chi ti aiuta? Allora, innanzitutto con chi erice? Nessuno Non ti ha aiutato nessuno? Non mi deve aiutare nessuno Scherzi? Se no sembra una vecchia No, sembra una vecchia se non ti rialzi e ti parte il femmule Ma siccome sei qua, sei intera e salute Allora, mio padre che era regbista E andava a giocare a rugby con le costole rotte E diceva che il dolore non conta Hai capito come sono cresciuta io? Così, cioè Perché un padre regbista ti ha forgiata? Sì, certo Papà sto male Non riesco ad andare sul papà Vai Ma stai scherzando? Guarda sto male E dai che dopo ti riprendi Forza Così Era sempre così Però mi ha dato anche un po' di... Beh, il regbista D'arresti si sa uno sport da Rudy giocato da gentiluomini Esatto Una roba del genere Sì, sì Salutiamo tutti i regbisti all'ascolto Ciao ragazzi, ciao ragazzi Vi salutiamo caramente In onore del babbo di Paola Comunque scusami, no Volevo domandare Se hai già un'idea della foto che pubblicherai In quale bagno è conciata Cioè, è vestita come quest'anno a settembre? Sì, mi sto preparando Cioè, la stai ideando o ancora? No, mi sto preparando fisicamente Perché vorrei dare uno smacco a chi pensa che i sessantenni Che le sessantenni siano... Siano... Poverine Guarda che le sessantenni sono le nuove cinquantenni Che sono le nuove quarantenni Che sono le nuove trentenni Non lo so Per quel che mi riguarda Io mi sento bene E quindi è capace che... Ma uno si sente bene anche in base alla vita che... In costume come te, per esempio Non mi ci sono mai fatta vedere, eh In costume come me? Ma cosa vuol dire? Ma io da alcuni metri Da alcuni chilometri Sì Su tutto Dove mi hai vista in costume? Ah sì, sui social Però sempre in penombra Da lontano Con la telecamera sporca Le luci al mare Le luci del strobo dal basso Comunque, forse, semplicemente Non è soltanto il punto della vita in cui è È come ci arriva al punto della vita in cui è Assolutamente Quindi, siccome noi, a differenza di altri programmi Non ci facciamo mai gli affari degli altri Volevo solo sapere se sei felice di compiere Sessant'anni con una moglie meravigliosa al tuo fianco Che ne ha tanti, tanti di meno Ma lascia stare Ma sono dettagli questi Sì, sì, sono felice Sì Sì Sì, mi stai guardando Sì No, ho letto che come coppia Vi sentite rappresentati dal camper Cioè, volevo capire com'è Che ruoli sono Come sono divisi i ruoli Chi paga il bollo Cosa fate Che camper è Un camper comode Un camper di quelli anni 70 È un camper normale Il bollo lo paga lei Il telepass lo pago io E non è che ci facciamo rappresentare Lo condividiamo Cioè, ci piace andare in camper Qual è il prossimo viaggio che farete? Forse torneremo ad Amsterdam Cosa non avete capito? Del viaggio Vabbè, fateci sapere Ci piace il cammino Ho un ridaccio e l'ho Adesso Paula, guarda Ti mostro una tua foto meravigliosa Ti chiedo di raccontarci Dove sei? Allora, quella è una foto Che è stata scattata Anni fa Tanti anni fa Nel 2016 Ed ero nell'ospedale pediatrico San Damien Ad Haiti Era la prima volta Che andavo ad Haiti E in questo ospedale pediatrico Ci sono Grazie alla fondazione Francesca Rava Ovviamente Nell'ospedale pediatrico C'erano i bambini Che stavano per morire Bambini che stavano Come uscivo Stavo malissimo Proprio malissimo Perché sono davvero delle ingiustizie queste Ingiustizie vere e proprie Allora io ti chiederei di cantare una tua canzone Che io amo tantissimo Che deve essere frutto anche di questa sensibilità Che hai avuto nel vedere le vite altrui E le vite dei bambini più fragili Bambini